Grazie. Signori buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a voi e come dico sempre benvenuti anche a noi in questo scenario meraviglioso e soprattutto in vostra compagnia. Per noi è davvero un onore, è davvero anche un piacere essere qui dopo 11 anni di questo meraviglioso festival e noi come raccontava prima il nostro batterista Tonino portiamo la musica che sa di radici, portiamo la musica che sa di terra, dell'umanità e la terra determina gli uomini, gli uomini ovviamente sono anima, siamo anima e l'anima genera arte, genera musica e fortunatamente ci unisce. Per voi la banda della posta stasera, speriamo vi faccia divertire e soprattutto danzare, ci proveremo. La banda della posta! Prima Bando! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.